Sì, tutti siamo convinti che il nostro sistema paese deve cambiare, non è solo una questione politica, è una questione etica e di civiltà, un valore di cui sempre si siano perse le tracce. SWG ne ha fatto una bandiera in un sondaggio tra cui emerge che il primo nodo resta la politica e poi subito dopo il fisco. E' da qui che occorre mettere mano per far ripartire il sistema Italia. Il 40% delle risposte dei cittadini consultati indica con decisione che è la politica che deve cambiare, riducendo il peso della casta diventata asfissiante una spugna che assorbe con indifferenza ogni rilievo o protesta. A seguire con il 36% delle risposte è il fisco, il secondo nodo da affrontare, contrastando l'evasione ed abbassando il peso delle tasse giunto a livelli insopportabili. Molto distante ma comunque significativo ed interessante è il 10% delle nostre risposte che convergono sulla burocrazia, altra palla al piede del paese, cui dovrebbe corrispondere il contrasto della semplificazione e fa riflettere anche quel 6% che nel sondaggio indica nelle imprese un altro nodo, imprese che devono rischiare di più ed assumere di più e che con un altro 6% punta l'indice anche verso la scuola che dovrebbe riqualificarsi per riqualificare le fondamenta del futuro, le giovani generazioni e dal sondaggio esce fuori con prepotenza una seconda risposta pesante dei cittadini, quella sul cambiamento e sulla parola che subito dovrebbe evocarne la direzione. Ebbene il 54% di noi cittadini sembra gridare ai politici l'onestà, la grande assente della politica degli ultimi anni, travolta in tutte le sedi, dalle camere alle regioni fino alle banche, dalla corruzione e dal malaffare, solo seconda e distante con il 21% delle risposte la parola efficienza, quella che andava di moda forse 10 o 15 anni fa e che ora è diventata un requisito di secondo piano seppure ancora molto importante, a seguire con il 15% le parole innovazione, ancora di moda e poi conoscenza e mercati e ricerca, valori che si abbinano all'innovazione e che quindi sono anch'essi ancora avvertiti dai cittadini, che sembrano avere le idee più chiare di molti politici.